Come si chiama sto mulino? Molino di Donato. Di Donato? Donato, sì sì. Questo fiume l'è in Carigio, giusto? È proprio in Carigio, davvero. Davvero? Che bello. Simpatia sto fiume. E qui dietro c'è il ponte che attraversa in Carigio, tra gli alberi. Mi hanno detto che l'acqua è gelata. Vuoi fare una prova, Marco? Prova, dimmi com'è lei. Molto fredda. È fredda, eh? Sì.